Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, finalmente cambio stile di registrazione per quanto riguarda le recensioni dei tweaks di Cydia singoli, infatti come vedete da oggi in poi le recensioni dei tweak di Cydia le farò direttamente registrando lo schermo del mio iPhone. Questo mi permetterà di caricare video con più frequenza e allo stesso tempo di mantenere una certa qualità sempre nei video che faccio appunto. Vi dico che questo nuovo template per i video ovviamente varrà solamente per le recensioni singole dei tweaks di Cydia, tutti gli altri video ovviamente, insomma quelli più importanti li farò usando la Reflex ovviamente, ma non perdiamoci troppo tempo e vediamo subito il tweak di oggi. Il tweak di oggi si chiama gesture ed è un tweak che non aggiungerà né un'icona nella springboard né tantomeno una voce nelle impostazioni, sarà tuttavia attivabile tramite activator, quindi dovremo andare a selezionare un metodo di attivazione per il tweak, per esempio vado nella sezione barra di stato e metto doppia pressione e come vedete la assegno a gesture. Bene e una volta attivato tramite activator vediamo subito cosa ci permette di fare. Prima però dovremo aprire un'applicazione, quindi per esempio vado ad aprire l'applicazione Meteo e come vedete se io attivo gesture facendo un doppio tap sulla barra di stato mi compare questo menu. E premendo sul bottone in alto Assign e successivamente disegnando un logo, vado a disegnare per esempio una linea chiusa, mi dice che l'azione è stata assegnata all'applicazione aperta, quindi in questo caso Meteo. Ciò vuol dire che se io da qualsiasi altra parte della home vado ad attivare gesture e a fare il simbolo, come vedete mi apre l'applicazione a cui ho assegnato questa particolare azione, per esempio a telecamere spente ho attivato che se io disegno una linea mi apre tweetbot, il che è molto comodo. Facciamo un'ultima prova, ve lo dimostro con l'applicazione Spotify, basta che io apro l'applicazione, successivamente vado a fare un doppio tap sulla barra di stato, premo su Assign, disegno il mio gesto, la S di Spotify e come vedete torno alla home, disegno la mia S ed ecco che Spotify viene aperto. Ovviamente questo funziona anche se sono all'interno di un'altra applicazione, per esempio vado ad aprire un'altra applicazione, quale può essere l'applicazione telefono e come vedete se attivo gesture e faccio per esempio la S, ecco che passa in automatico all'applicazione assegnata. Quindi ragazzi, gesture è scaricabile da Cydia dalla lipo di Big Boss al prezzo di 0,99 dollari e supporta iOS 6 e iOS 7. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Mi raccomando seguitemi su Facebook e Twitter, tutti i link li trovate giù in descrizione, controllate anche il sito per cui scrivo www.biphone.it, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di voltare questo video pollice in su, un grande saluto, ciao a tutti!